Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 26 giugno. Cosa succede sui giornali? E' presto detto, ci sono due temi fondamentali, ce ne sarebbe un terzo che è quello critico, ma che viene confinato alle pagine di economia, e cioè l'andamento dei mercati quando non è colpa dei governi italiani, ma è colpa per esempio di Trump e dei Dazi, insomma ha meno titoli sui giornali, anche se è molto peggio quello che sta avvenendo sui mercati in queste ore per i Dazi di Trump di quanto sia avvenuto sui mercati europei per colpa delle incertezze politiche italiane. Ma ritorniamo a bomba su quello che è avvenuto in Italia. Quello che è avvenuto è il giorno dopo, come spesso avviene, delle amministrative. In realtà questo, se uno volesse veramente leggerla secondo un dato fondamentale, sarebbe una fake news quello che è successo nelle amministrative, perché hanno votato talmente pochi italiani e talmente di più saranno quando si andrà a votare alle elezioni politiche, che sarà difficile ed è molto difficile prioritare su base nazionale e quello che è successo su base amministrativa. Dunque, quelli che godono molto della sconfitta del PD devono stare attenti perché in politica le cose, soprattutto alle politiche, potrebbero cambiare, così come quelli che godono dell'arretramento in alcune città del Movimento 5 Stelle non fanno i conti sulla dimensione poco amministrativa e molto politica del Movimento di Beppe Grillo. Si può ancora dire così che il Movimento di Beppe Grillo? Ma andiamo a vedere quello che in realtà è la virtualità della discussione politica. E beh, su questo ci sono alcuni temi fondamentali di giornata. Quello che è chiaro, ovviamente anche ai bambini di queste dimensioni, è che il PD è nel caos più totale. Quando voi sentite parlare di cambiamento, rottura, rattamazione, chiusura del partito, rinnovamento e soprattutto sentite parlare nell'ordine prodi, andare oltre il PD sembra una roba fantoziana. Ce l'ha già detto 15 volte e probabilmente oggi è quella buona. E poi chi trovi calenda, che si è appena iscritto al PD e chiede sostanzialmente il suo scioglimento. Cioè come se io mi iscrivo al circolo della caccia e dico chiudiamola sta caccia, cambiamo... Ti sei appena iscritto, porca miseria, già hai capito che è una cagata. Potevi non iscriverti. Ma poi anche, come possiamo dire, l'intellettuale di riferimento. Quando leggi Polito che dice che sul primo pagino del Corriere della Sera che la sinistra è senza voce, io mi chiedo, gli intellettuali della sinistra ce l'hanno una voce? Stanno dicendo qualche cosa? Beh, insomma, io un intellettuale di sinistra la voce l'ho sentita e ce l'aveva bella, forte e chiara ed non era ascoltata dalla sinistra mentre invece il Corriere, gli intellettuali organici erano lì che ce lamenavano sull'accoglienza e tutte queste strozzate qua. Cosa succede? Quando io leggevo Ricolfi con quel famoso libro Perché la sinistra è destinata a perdere, una cosa di questo tipo beh, insomma, oggi me lo leggo sul Messaggero con un gusto senza fine. Non solo perché lui aveva previsto quello che diceva non solo perché lui si definisce di sinistra non solo per questo, io sapete che non amo molto la sinistra ma perché le sue ricette erano basate sulla realtà quando all'epoca nessuno la vedeva. Ricolfi oggi dice sul Messaggero una cosa molto semplice sulla quale, come sempre, nessuno ci ha pensato cioè tutti raccontano quello che gli altri hanno già più o meno masticato. Cosa dice Ricolfi? Attenzione perché quello che dimostra le elezioni amministrative è una mobilità straordinaria dell'elettorato italiano. Ci sono addirittura dieci ballottaggi su undici in Puglia che sono stati vinti contro ogni previsione dal Partito Democratico. Evidentemente si tratterà di piccoli comuni. Così come a Ragusa il partito del Movimento 5 Stelle perde il suo sindaco. Cioè non ne fa una questione di singoli partiti. Quello che dice Ricolfi in maniera molto chiara è che oggi i partiti riescono a trattenere i loro elettori molto meno che nella prima o nella seconda Repubblica in cui si votava per appartenenza. Mi sembra uno dei pezzi forse più intelligenti e centrati di oggi. Sallusti nota invece come ci sia un tema. Il tema, queste amministrative lo pongono, mi sembra anche questo interessante, cioè quanto tempo il Movimento di Salvini può lavorare sul doppio binario al governo con il Movimento 5 Stelle, per cui oggi alcuni dicono che c'è tensione, e sui territori con gli avversari del Movimento 5 Stelle, cioè Forza Italia e Fratelli d'Italia. Insomma, mi sembra una cosa un po' quella che pone Sallusti una domanda di buonsenso, anche questo a cui è difficile rispondere. Anche perché se il PD è nel casino, non mi sembra che Forza Italia sia in una situazione migliore. Anzi, vorrei dire che Forza Italia è in un casino paragonabile a quella del PD, senza però aver perso il governo che prima non aveva e che oggi non ha, tanto meno. Quindi, insomma, è meno giustificata nel suo casino. C'è un retroscena sul Corriere della Sera che ci spiega il gran casino, diciamo, piccolo amministrativo interno, e cioè il fatto che hanno rimandato un direttivo che creerà polemiche la nomina vicepresidente di Tajani, che nessuno vuole fare il reggente del partito, che nel frattempo Berlusconi non si capisce se lo vuole rinnovare o meno. In questo senso, la lettera di un neodeputato del movimento di Berlusconi, molto vicino a Silvio Berlusconi, perché è una di quelle giovane eleve che è stata coinvolta nella nuova generazione dei deputati berlusconiani, cioè Andrea Ruggeri, che io conosco molto bene, scrive una lettera al foglio molto interessante, in cui dice, caro Presidente, qua è inutile che meniamo il camperlaia, se si dice così, diamo un rinnovamento al partito serio, in realtà qua siamo stati percepiti come il vecchio che ha perso rispetto al nuovo della Lega e del Movimento 5 Stelle. Secondo me Ruggeri coglie un aspetto fondamentale, cioè che alla fine Berlusconi, con le sue età, con i suoi modi, con il doppio petto, come scrive nell'ultima riga della sua lettera, ha sempre mandato un'idea di novità, di rivoluzione, anche di essere maverick fuori dagli schemi. Beh, oggi invece è diventato lo schema, l'antico, magari l'usato sicuro. Ecco, non è esattamente quello che pensa Ruggeri come possibilità di rimonta di un partito che altrimenti, lui non lo dice, ma i sondaggi dei giorni scorsi lo stavano dicendo, sembra in stato precomatoso. Tensione sugli sbarchi nel governo tra Lega e Movimento 5 Stelle, il titolo del Corriere della Sera, mentre invece il giornale del partito del Movimento 5 Stelle, cioè Il Fatto, dice, hai ragione, con Romani si chiede qualcuno, possiamo cambiare il partito? La vedo un po' difficile. Tensione, il giornale del Movimento 5 Stelle, Il Fatto Quotidiano, dice, la figuraccia di Salvini in Libia, niente hotspot, perché secondo loro ieri andavano in Libia e otteneva gli hotspot. straordinario il giornale del fatto, che bisogna leggere con attenzione, perché dà il senso dell'irrequietezza di una componente del governo, quella del Movimento 5 Stelle, nei confronti di quelli che loro definiscono il cazzaro verde, ma che sostanzialmente è la grande fragilità di questo governo, in cui c'è una componente de sinistra, che vedremo, secondo il Sole 24 Ore, farà tra poco questo decreto dignità, che sarà un disastro per il mercato del lavoro, perché saranno più regole, più rigidità, e dall'altra parte una componente de destra, mettiamola così, legalitaria, un po' giustizialista, che è quella della Lega, che però in questo momento sembra avere il lion's share del governo. Due ultime notizie che riguardano l'economia, la faccio breve, la prima è la paura delle borse mondiali per le stronzate che sta facendo Trump, quelle foto opportunity con i minatori tutti contenti dei dazi di acciaio e di alluminio, che piacciono tanto ad alcuni, diciamo, vertici leghisti di casa nostra, sono l'inizio della fine, nel 1930 la grande depressione nacque dalla incapacità di capire che con la chiusura delle frontiere commerciali si sarebbe aggravata una crisi che lì era fortissima. Chiudere le frontiere, pensare di fare trattati unilaterali, pensare di andare oltre il WTO attraverso le imposizioni di dazi, tariffe e barriere, è una follia economica, l'abbiamo già vissuta in 100 anni, l'economia non sa dove andremo nel futuro, forse non ha le ricette giuste per trovare la ricchezza di tutti quanti noi, ma l'economia almeno conosce gli sbagli fatti nel passato. Uno di questi sono i dazi, le chiusure, la rottura dei mercati, la decisione politica su quello che si può importare o no. Ecco, quello sicuramente l'economia ce l'ha spiegato, che fa male, malissimo. Continuiamo così a farci il male. Le mercati questo lo sanno, anche se quando si parla di dazi e di Trump, di misure di questo tipo, i mercati si muovono pesantemente come quanto è successo ieri, signori, fa meno notizie sui giornali italiani, anche se dovrebbe farne di più, rispetto alla irrequitezza dei mercati riguardo alla formazione del governo italiano. L'ultima notizia riguarda la team, Genish, il suo amministratore delegato, fa una cosa molto divertente ieri, cioè chiede scusa al Consiglio di amministrazione che dura dalle, sostanzialmente le pre-reunioni iniziano alle nove, la scrive oggi Maddalena Camera al giornale, ma finisce alle 19, 12 ore di Consiglio di amministrazione, un po' anche per chiedere scusa rispetto alla dichiarazione che aveva fatto soltanto il 20 giugno, cioè aveva detto all'amministratore delegato Genish, c'è qualcuno in Consiglio di amministrazione che rema contro di me. Roba, direte voi, di piccolo cabotaggio azientale, io la trovo straordinaria perché ieri va al Consiglio di amministrazione e dice no scusatemi non intendevo dire quello e comunque è stato esagerato e amplificato dai media, cioè è sempre stata colpa nostra. Come dice giustamente Maddalena Camera, in realtà è stato lui l'amministratore delegato a convocare i vertici e i giornali per fargli comunicazioni che sono poi finite sui giornali. Questo che cosa ci racconta, questa piccola cosa finanziaria o economica, che alla fine politici e grandi manager o su Adison grandi manager hanno tutti questa specie di atteggiamento nei confronti della stampa per cui noi siamo ancillari, dobbiamo ascoltarli, sentire e quando loro dicono una cagata è sempre un po' colpa nostra. Colpe ne abbiamo per carità, ma in questo caso mi sembrano ridotte. La cosa più bella è la foto di un microtelefonino oggi sul Corriere del Mezzogiorno, piccolo così, praticamente tutto fatto di plastica, cioè scritto dagli artigiani del malaffare e sapete a che cosa serve? Altro che Tim, altro che Vodafone, altro che Iliad, questa nuova compagnia telefonica che fa pagare, che sta rompendo il mercato per le sue tariffe basse, che cosa fa questo telefonino? Passa tra le sbarre delle celle napoletane e non viene identificato ai metal detector ed è diventa il telefonino dei detenuti, piccolo così, tutto di plastica. La trovo una storia straordinaria, l'ingegno italiano e la telefonia, che non vale tanto su Tim, gestita da un'israeliana, non vale su Vodafone, gestita da degli inglesi, non vale su Wind, gestita dai cinesi, non vale sulla nuova entrata Iliad, gestita dai francesi, ma vale per i micro telefonini di poggio reale, hardware fatto in Italia, fantastico. Vi do un abbraccio a tutti quanti, vi dico che domani non succede nulla, facciamo la zuppa come sempre, se vi piace questa zuppa di prima mattina, condividetela. Ciao!